Il primo requisito riguarda la maggiorità. Due soggetti per potersi sposare devono essere maggiorenni, quindi aver compiuto 18 anni. In caso di matrimonio con o tra minorenni, ma che abbiano compiuto almeno 16 anni, occorre per potersi sposare il decreto di autorizzazione del Tribunale dei Minori. Quindi, se avete 16 anni, fate un bel respiro e organizzatevi con i vostri genitori o con chi ne fa le veci. Mentre, se avete 18 anni, siete idonei con il primo requisito richiesto.